La grande menzogna sul fabbisogno di calcio. Il fabbisogno di calcio per l'essere umano provate a indovinare? È stato inventato dall'industria casearia, che nel 1994 lo portò a mille milligrammi al giorno, nel 1997 a 1200, nel 2001 a 1500. Il fabbisogno reale è molto più basso di quanto si dicesse. Già nel 2007 in tutta Europa è stato riportato a 700 milligrammi al giorno per gli adulti e 400 per gli adolescenti ma già nel 1962 le raccomandazioni per il calcio del FAU-UO Expert Group erano per gli adolescenti di 350 milligrammi e le donne. In gravidanza di 500 milligrammi al giorno. In Cina o in Zambia e in altri paesi in cui la incidenza di fratture osse era nulla o quasi, le persone avevano un introito di calcio che andava da 250 fino a 400 milligrammi al giorno UNT 2007. Le ossa contengono calcio. Che cosa dobbiamo fare per curare le ossa fragili e malate? Ingerire più calcio? Ma il calcio contenuto nel latte di vacca precipita sulle ossa in modo tale da renderne la struttura rigida e particolarmente fragile. Studi lo confermano il calcio del latte, poiché è relativamente inassorbibile ed in eccesso, va a creare il problema delle calcificazioni inappropriate sui tessuti molli, legamenti, cuore, eccetera, perché è lì che quel calcio sedimenta, precipita. Sono proprio le nazioni, che consumano le maggiori quantità di prodotti caseari, gli Stati Uniti, Israele, l'Olanda, la Finlandia, che hanno le incidenze maggiori di fratture ossee. Se il consumo di prodotti caseari veramente aiutava le nostre ossa, ce ne saremmo accorti, almeno negli Stati Uniti, dove il consumo pro capite di formaggi è passato da 5 chili nel 1970-11 nel 1990, 16 nel 2006 e oltre 19 chili nel 2010. E invece l'incidenza di fratture ossee è aumentata in maniera esponenziale negli ultimi 40 anni. Considerate questo. 100 grammi di latte materno, destinati alla rapida mineralizzazione dei tessuti del neonato, contengono 33 milligrammi di calcio, mentre la stessa quantità di latte vaccino ne contiene 118 milligrammi, quindi quasi 4 volte tanto. Se accettiamo l'idea, che la natura fa tutto per dei buoni motivi, dobbiamo pensare che il latte di mucca dispone di troppo calcio per gli esseri umani, quali sono gli effetti negativi di un eccesso di calcio? Ebbene sappiamo che le difficoltà causate dall'uso di carbonato di calcio usato per variati anni come antiacido consistevano in affaticamento, cefalea, nausea senza vomito, scintigrafie osse anormali, anormali livelli di ormone paratiroideo e insufficienza renale. L'integrazione di calcio oltre i 2500 milligrammi al giorno ha importanti effetti negativi sull'equilibrio dei minerali nel corpo cato 2004. Uno studio pubblicato sull'American Journal of Medicine descriveva un uomo, che aveva accettato di prendere come trattamento per i dolori allo stomaco un antiacido a base di carbonato di calcio. Nonostante lo avesse preso tutti i giorni per oltre 4 anni, sul paziente furono riscontrati successivamente numerosi episodi di fratture. La cosa strana era che il grado di mineralizzazione ossea era davvero soddisfacente. Un'attac però aveva rivelato calcificazioni ai reni. Aumentando negli anni l'utilizzo di carbonato di calcio contro l'acidità di stomaco, i ricoveri ospedalieri per l'ipercalcemia sono passati da un tasso inferiore al 2% nel 1990 a quello del 1993 che era del 12%. Secondo Balescold, la condizione di ipercalcemia è reversibile se diagnosticata precocemente. Ma le persone spesso prendono gli antiacidi a base di carbonato di calcio regolarmente per anni, senza considerare i possibili effetti collaterali, come per esempio artriti o danni renali permanenti. Dopo aver riportato tutti questi dati scientifici di cui ci si dimentica spesso, non mi rimane che ribadire, che il modello di guarigione più accurato, e che ottiene risultati migliori è quello naturale, che si basa sulla fiducia nella natura, e che si interroga sui possibili problemi metabolici o sui sovraccarichi tossici. A cura di Lorenzo Acerra. A cura di Lorenzo Acerra